Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Amici di Radio Bruno siamo sempre qui a Sanremo ma questa volta è venuto a trovarci Renzo Rubino Eccoci ciao Ma ciao ma allora come stai prima di tutto Allora non sono ancora andato a letto da quando sono sceso giù dall'Ariston Però sono comunque in una fase di carica quindi bene Quindi ancora l'adrenalina in circolo Sì ancora in circolo e sono contento Però tra l'altro ti sei esibito proprio verso la fine quindi insomma l'attesa com'è stata? Ma l'attesa non è una cosa molto molto bella perché poi sei lì aspetti aspetti pensi come andrà cosa farò Poi devo dirti che sul palco dopo la prima strofa mi sono lasciato andare ed è stato tutto più facile Poi è un palco che conosci comunque molto bene insomma sei già la terza edizione del festival di Sanremo Quindi diciamo che le emozioni sono sempre le stesse? No sono diverse sono diverse ogni volta è diversa le prime due volte c'era incoscienza e curiosità Adesso sono più convinto di quello che voglio essere di quello che voglio fare del messaggio che voglio lasciare insomma quando canto una canzone Ecco un brano meraviglioso e complimenti davvero molto bello si intitola custodire che affronta un argomento insomma intenso che riguarda molti figli Sì perché custodire è diciamo un dialogo tra due genitori scritto dopo aver visto un film che trattava il tema della separazione vista da un bambino E mi sono chiesto ma io perché faccio questo no? E quindi probabilmente perché ci sono state delle piccole crepe Quando dico faccio questo significa avere la musica come stimolo e mondo in cui rifugiarsi E quindi sono andato a pescare proprio dentro di me e mi sono inventato questo dialogo tra due genitori che di fatto non si parlerebbero comunque Però tu a un certo punto della tua vita hai deciso quasi di abbandonare il mondo, questo mondo, il mondo della musica Perché? Che poi è la tua passione Sì perché la cosa che più mi piace e mi interessa effettivamente è essere sul palcoscenico, scrivere i dischi, contaminarmi con il pubblico E invece faccio più fatica a stare sotto i riflettori e ad essere trattato come oggetto Di fatto la musica non è questo per fortuna Anche perché non sei molto amante dei social e quindi insomma vuoi stare un po' lontano da tutto quel mondo e essere ascoltato per le tue canzoni Ma credo che sia il sogno di tanti, di quelli che fanno poi questo mestiere, quello di fare i dischi e di fare i concerti E' molto semplice, di fare dischi, concerti e stare tra la gente, tutto il resto è superfluo Invece il 9 febbraio che cosa succederà? Il 9 febbraio esce il re-pack del Gelato dopo il mare, il mio disco è uscito qualche mese fa E' un disco a cui sono molto legato e secondo me era giusto nonostante avessi la possibilità di fare un disco nuovo con degli inediti Ma era giusto chiudere un ciclo, un capitolo inserendo poi nel Gelato dopo il mare Custodire che la canzone del festival è un altro inedito Quindi usciamo con il re-pack del disco Invece per quanto riguarda la serata dei duetti hai scelto insomma di duettare con Serena Rossi Grande interprete, insomma anche grande attrice Interprete, attrice fantastica, piena di entusiasmo, di gioia, di felicità Come è nata questa collaborazione? Sinceramente eravamo con i miei amici seduti lì a pensare a chi poteva essere la persona giusta E' venuto fuori il nome di Serena Perché c'era la volontà di avere una donna sul palco Che non fosse solo una brava cantante Ma che riuscisse appieno a capire il senso della canzone e ad entrare E lei ha un tot di qualità Che fanno sì che custodire Sia poi una canzone anche sua L'ha fatta sua, l'abbiamo provata E l'arrangiamento è diverso Sarà un bel momento Bene, noi di Radio Bruno ti facciamo un grande in bocca al lupo Vuoi salutare gli amici che ti seguono? Ciao da Renzo Rubino Ovviamente un saluto a Radio Bruno E ci vediamo presto Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca